Lo scarto o sbandata è un fenomeno che si verifica tutte le volte in cui colpiamo, spostiamo un oggetto non applicando la nostra forza al suo centro ma un po' più a destra o un po' più a sinistra del suo centro. Nel bigliardo questo fenomeno si applica quando applichiamo un effetto perché per applicare un effetto dobbiamo attaccare la biglia non al suo centro ma più a destra o più a sinistra del suo centro ed ecco che rientriamo nel fattispecie che causa questa sbandata. Cosa dobbiamo fare nel bigliardo per correggere questo fenomeno che è un fenomeno naturale? Succede, succede no? Applicando l'effetto bisogna mettere la stecca in modo che non sia più parallela alla direzione di tiro che vogliamo far prendere alla biglia ma sia leggermente diagonalizzata. In questo modo riusciremo ad imprimere l'effetto alla biglia facendola partire lungo la direzione che avevamo prima identificato come giusta da percorrere. Questo si chiama correzione della sbandata. In questo modo riusciremo ad imprimere l'effetto.